al festival del cinema di venezia perché me l'ha fatto fa due volte e la seconda volta non è mai spontaneo e allora interrompo no non interrompo però d'altronde d'altronde se fai cameraman e regista si sono entusiasta di rincorsa di rincorsa e però non c'è visto nessun attore perché sono già tutti dentro magari c'è qualche per la prima azione ma magari c'è qualcuno che hanno scartato fuori e lo possiamo vedere ma non credo che sia qui fra di noi che avresti voluto vedere per esempio qualunque uguale noi siamo qui dopo vent'anni dal 99 eh ma quel regista è morto era già morto nel 99 ah si è vero va bene abbiamo visto la nostra amica fotografa si Giulia Barini saluti che ora è entrata fra i vips dei vips fotografi ecco ecco qualcuno battono le mani non si sa perché va bene salutiamo ciao